hanno in un sistema in cui chi comanda non è il politico, è il banchiere. E allora, quando il politico viene qualificato da Ezra Band come cameriere del banchiere, è chiaro che se vuole servire il padrone, lui viene mantenuto al suo posto di comando. Se lui vuole servire non il padrone ma la collettività nazionale, bisogna vedere che dice il padrone, perché tutte le volte che i politici hanno fatto gesti chiari per servire la collettività e non i padroni, i camerieri sono stati licenziati.